Caffè Bitcoin oggi le news delle cripto in pillole benvenuto e benvenuta buon lunedì 22 marzo 2021 iniziamo un'altra settimana un'altra settimana super intensa come si dice sempre nel mondo delle cripto sembra quasi che una settimana sia un mese no talmente tante cose succedono tante cose bisogna guardare oggi assolutamente dobbiamo iniziare da qui quindi dobbiamo dare il ringraziamento a tutte le persone che si sono aggiunte in questi ultimi due giorni grazie grazie abbiamo raggiunto un target per noi inaspettato in così poco tempo quindi grazie mille a tutte le persone che ci seguono grazie alle centinaia centinaia tra commenti mail messaggi che abbiamo ricevuto nel fine settimana prima di iniziare lasciamo 40 secondi allo sponsor e poi partiamo con la nostra fast puntata lo sponsor di oggi è business box italia con la sua business box challenge che cos'è è la risposta ogni tuo dubbio sul digital marketing grazie alla business box challenge capirai una volta per tutte se il lavoro online fa per te e come iniziare a muovere i primi passi 28 giorni di video training ti guideranno per conoscere le basi del digital marketing e come intraprendere questo lavoro inizia ora questa sfida di 28 giorni e segui i training che sono tutti in italiano proprio come le altre sezioni di business box italia l'accademia e il mentor sei pronto per la sfida clicca il link qui sotto per iniziare da oggi la tua challenge al prezzo speciale di 47 euro e rieccoci qua intanto che sorseggiamo il nostro caffè e tè quindi buon caffè buon tè di nuovo di nuovo un saluto a tutti iniziamo velocemente che cosa è successo nel weekend abbiamo visto una flessione solitamente il weekend ci abitua a dei movimenti che poi risultano in un po nulla no in questo momento è ancora 57.500 bitcoin 57.57 674 ha toccato anche 59 55 2 durante il weekend alcuni weekend spara verso l'alto e poi rientra altri weekend scende per poi lentamente recuperare niente da segnalare se non prese di beneficio su alcune coin che avevano corso tantissimo teta continua la sua corsa sembra inarrestabile luna continua la sua corsa vc in continua la sua corsa crypto.com che in questa settimana lancerà la sua chain abbiamo fatto un tutorial completo su crypto.com se non l'hai visto te lo mettiamo qua sopra vediamo vediamo interessanti sviluppi da ora in avanti poi vediamo solana in movimento monero iota che continua un po la sua corsa bittorrent ha fatto un più 104 per cento negli ultimi sette giorni comunque ci sono di solito accade così che con il bitcoin laterale o leggermente verso il basso leggermente verso l'alto anche un 3 4 per cento viene ritenuto nel bitcoin che è un asset super volatile poco spesso volentieri si vede che ci sono in alcuni settori le altcoin che sparano in determinati settori quindi questo è quello che è successo andiamo a vedere velocissimi la defi che cosa è successo in questi giorni nella defi defi che sta un po seguendo il mercato in questi giorni quindi è lì che sta consolidando dopo una corsa pazzesca siamo ancora a 43 bilioni ancora sempre fra virgolette maker è sempre il dominant 15.6 e il defi pulse 447.81 lo dicevamo poi nella puntata di sabato di parliamo di bitcoin sento quasi si sente si può sentire l'odore quasi di una ripartenza si vede i protagonisti principali che appena c'è la possibilità iniziano ad accelerare quindi mi sembra quasi che dai liave ai synthetics e tantissimi agli uniswap e tantissimi cercano poi di partire immediatamente quindi vediamo se ci sarà un altro pum sparone cosiddetto della defi nelle prossime settimane iniziamo subito con le notizie e iniziamo proprio con questa notizia scaramucci per chi non lo conosce ha lavorato come direttore della comunicazione alla casa bianca dieci anni in goldman sachs e oggi ha lanciato il suo fondo di investimento che si chiama skybridge capital ha dichiarato che più aziende dovrebbero tenere bitcoin sui loro bilanci alla domanda che si vede skybridge avere un prodotto basato su ethereum scaramucci ha risposto di sì questo non era quello che volevo comunicare quello che volevo comunicare è che è quasi certo che sarà una o la moneta valuta del mondo e potete vederlo poi in questo video sempre più aziende dovrebbero detenere bitcoin nel proprio bilancio a causa della crescita esplosiva dell'offerta monetaria degli stati uniti biden appena arrivato ha già stampato qualche trilione arriveranno sicuramente altri durante l'anno perché l'economia così com'è in questo momento non sta camminando da sola ha detto coin a coindest tv l'ex direttore delle comunicazioni a casa bianca e fondatore dell'edge fund anthony scaramucci in un'intervista ampio raggio venerdì il fondatore skybridge ha definito l'aumento dell'offerta di una moneta una tassa silenziosa sui risparmiatori americani quindi un po' quello che stanno dicendo tantissime persone da diversi anni oggi anche persone così esperte come anthony scaramucci che ripetiamo ha lavorato dieci anni in goldman sachs quindi sa esattamente che cosa dice che cosa fa assolutamente ritengono che più aziende dovrebbero avere un po' fare un po' quello che hanno fatto microstrategy square e tanti altri cambiare parte dei loro della loro liquidità in bitcoin quindi bullish news dal nostro anthony scaramucci questa è un'altra notizia che conferma alla fine quanto si sta parlando e quanto si sta chiacchierando poi vediamo una notizia di daniel che mi ha lasciato ne abbiamo parlato anche sabato però concentriamoci su questa quanto si sta parlando e quando ci si sta muovendo e molto rapidamente quello che ho detto all'inizio una settimana nelle cripto sembra quasi un mese anche il brasile diventa il brasile diventa il secondo paese delle americhe ad approvare un etf sul bitcoin l'approvazione è già stata data dovrebbe iniziare a giugno dice l'articolo la security exchange commission cvm del brasil ha approvato l'etf bitcoin la società di investimento blockchain qr capital che sarà negoziato sulla borsa con sede san paolo allora questo sarà il quarto etf del suo genere dopo i tre fondi lanciati sulla borsa di toronto e dovrebbe essere nel mese di giugno stavo leggendo ok eccolo qua reuters ha riferito venerdì che la quotazione dell'etf verrà entro giugno scusate questo per confermare che cosa che c'è un tremendo interesse da parte di istituzione da parte di tutti del bitcoin noi lo diciamo ormai da tantissimi mesi ma il 2021 sarà un anno veramente dove il bitcoin prenderà la sua posizione e la gente capirà anche gli più scettici dovranno ritornare un attimo indietro cercare di mettersi a capire perlomeno che cos'è come funziona perché se tutti questi personaggi e tutte queste fondi governi stanno guardando è inutile dire no no non va bene importante guardarci e sapere che cos'è e poi vediamo anche questa notizia grande chiacchierato grande atteso lancio di coinbase in borsa che avrebbe portato tantissimi istituzionali ad entrare in coinbase acquistando azioni di coinbase senza esporsi direttamente con il bitcoin slitta slitta di un mese apparentemente non ci sono non è stato fornito alcun motivo per il ritardo ma bloomberg ha notato che la sec sta riesaminando il piano dell'exchange per una quotazione diretta grandissimo interesse a me personalmente lo terrò controllato il titolo di coinbase assolutamente magari non immediatamente quando viene lanciato durante il bear market ma magari ci darò un'occhiata perché coinbase ha aperto le porte a una serie di exchange a quotarsi eccetera eccetera quindi altro settore che si sta sviluppando sempre nel mondo cripto perché poi alla fine di kraken o coinbase o altri fanno parte proprio del mondo cripto l'attesissima offerta pubblica dell'exchange criptovaluto e coinbase è stata spostata ad aprile dopo che il suo piano per una quotazione a marzo è scivolato secondo un rapporto di bloomberg nessun motivo è stato fornito gli stati uniti stanno riesaminando coinbase ha annunciato formalmente i suoi piani per diventare pubblica a gennaio e la scorsa settimana ha registrato fino a 114 milioni di aziende di azioni da scambiare le azioni classe a e coinbase dibuteranno sul mercato nasdaq global select con il ticker coin quindi andremo a seguirle che cosa faranno oggi passiamo abbiamo visto prima coin desk oggi passiamo più tardi a coin telegraph ecco poi sono andato a ricercare questa notizia anche se è del 15 di marzo tantissime persone ci hanno scritto e hanno commentato secondo noi se l'india il ban dell'india poteva influire sul prezzo può essere che ha influito parzialmente ma o momentaneamente ma questa settimana non abbiamo parlato perché erano tantissime le altre notizie però sono andata a recuperarla e l'india ha una finestra per il bitcoin afferma il ministro in mezzo a questo divieto della quello che si sta dicendo del divieto della criptovaluta andiamo a leggere che cosa dice nell'articolo questa è la parte che più interessa è in un'intervista di sabato con india today il ministro non ha in programma di chiudere le innovazioni indiane associate a bitcoin alla sua tecnologia da parte nostra siamo molto chiari sul fatto che non stiamo escludendo tutte le opzioni ovviamente c'è sempre bisogna sempre andare a leggere e cercare di capire come vengono dette le notizie poi l'india l'abbiamo già vista più di una volta dire a banniamo le cripto poi tornare indietro poi in questo momento è difficile bannare il bitcoin e quindi tutto quello che si fa è per cercare di fermare questa crescita gigantesca che avendo che che sta avendo che secondo me secondo noi è quasi infermabile a questo punto quindi non è che vieteranno all'improvviso così non si può più scambiare le cripto perché le cripto si possono usare scambiare usando altri metodi quindi non secondo noi non andrà a influire non ha influito chissà quanto magari parzialmente sul prezzo questo per rispondere diverse persone che ci hanno scritto no che cosa ne pensavamo sull'india e ritorniamo alle notizie che piacciono a noi con le belle bullish la liquidità DEX decentralized exchange combinata segna un nuovo massimo storico a 10 miliardi di dollari il dominio di uniswap sul settore del ethereum decentralized exchange continua a crescere con l'exchange che rappresenta più della metà del volume settimanale combinato nel settore la quantità di garanzia sugli scambi decentralizzati si sta avvicinando una pietra miliardi di 10 miliardi con uniswap ancora in cima alla lista secondo una ricerca di messari i volumi e la liquidità sugli scambi decentralizzati sono aumentati nel 2021 con il collaterale che si avvicina a un traguardo di 10 miliardi 10 miliardi ricercatore rau rai ha notato che i volumi DEX per febbraio sono saliti a un record di 72 miliardi da bradar riferisce che uniswap ha oltre la metà della liquidità totale bloccata con un tvl di 5,4 miliardi questo per dire che cosa che l'interesse continua aumentare i decentralized exchange vediamo che ne nascono tantissimi uniswap continua a condurre però andiamo verso quello che ci sono un po di le fie alte però si stanno soluzionando con i two layer solution altre soluzioni la versione 3d one inch la versione 3d uniswap stessa tanta gente sta incominciando a scambiare senza passare dagli exchange che abbiamo conosciuto fino a un anno fa i classici non facciamo i nomi però i classici exchange questi sono decentralizzati con tutti i passaggi quindi è un trend assolutamente in grande crescita e continuerà per tutto il 2021 andiamo alle 5 cripto valute che consiglia coin telegraph poi una notizia e ci salutiamo ed eccolo qua ormai è diventato un appuntamento fisso che tanta gente apprezza proprio perché non è solo il dare le 5 coin di coin telegraph ma perché nell'articolo che trovate sempre qui sotto linkato proprio viene spiegato adesso io l'ho tradotto sì ci sono dei grafici quindi da da vedere da consultare il perché il per come quindi non è che sono scelte buttate lì così a caso quindi rivediamo le quali sono insieme bitcoin ovviamente uniswap ne abbiamo appena parlato luna teta e file coin l'abbiamo vista all'inizio continuano la loro corsa quindi teniamoli teniamoli sotto controllo e andiamo alla notizia in assoluto che abbiamo già detto poi durante bitcoin parliamo di bitcoin sabato però la dobbiamo rivedere per forza io in primis mi sono visto all'intervista completa e mi ha dato un'ulteriore spinta un'ulteriore gas ne abbiamo già parlato l'avrete già sentito sicuramente tutti i colleghi della community youtubers crypto youtubers ne hanno parlato super cycle che potrebbe spingere il bitcoin oltre a un milione di dollari lo dice dan health che è responsabile della crescita di kraken pensa che il bitcoin potrebbe raggiungere un milione nell'attuale ciclo di mercato questo non è come qualcuno ci ha detto nei commenti la voglia di far credere alle persone a lo compro adesso arriva a un milione è un'ipotesi è un'ipotesi alla quale noi vogliamo la vogliamo tenere in considerazione ci piace l'idea di del bitcoin a un milione ci sono tutta una serie di circostanze tutto si deve incanalare nella giusta direzione non è impossibile ok però secondo dan health questo ciclo di mercato è fondamentalmente diverso ed è quello sul quale voglio fare il punto andiamo spesso anche noi a prendere il ciclo del 2013 il ciclo del 2017 però allo stesso tempo ricordiamo che questo ciclo è completamente diverso per una serie di motivi questo è un momento unico negli ultimi cento anni ha detto citandosi alla crisi del coronavirus alla crescente sfiducia delle istituzioni finanziarie e dei governi abbiamo visto come hanno gestito il coronavirus la gente sta perdendo fiducia in quello che per sempre è stato ah no le banche ah no i governi i nuovi la gente fresca la gente nuova che arriva non crede più tanto come lo si credeva prima le istituzioni finanziarie e la continua stampa di danaro da parte delle banche centrali secondo den le persone non sono più lì solo per la corsa speculativa le persone stanno comprando perché vedono valore nel bitcoin e per me questa è la notizia con la quale possiamo concludere solamente due cose ricordatevi che oggi è lunedì uscirà la nostra quarta newsletter perché marzo ha poi 5 lunedì la nostra quarta newsletter del mese di marzo se non sei ancora registrato lo puoi fare da qua sotto e per coloro che vogliono poi passare alla sottoscrizione vi ricordo che c'è ancora lo sconto che in questo momento magari per il mensile si ha un senso però ne mancano solo due quella di oggi e quella di lunedì prossimo mentre ancora tanto senso se lo fate poi annualmente quindi pagherete poi veramente con uno sconto del 50 per cento grazie per averci seguito fino qua vi auguro di nuovo una bellissima settimana e giù la testa a studiare cripto perché da qui in avanti ne vedremo delle belle ciao a tutti buona giornata